nella chiesa desolata di San Pietro, che ancora sorgeva accanto al diruto monastero. Ora, noi sappiamo da una serie di sante visite di vescovi sorrentini e massisi che questa chiesa continuò ad esistere sempre più flaciscente fin nel pieno del XVIII secolo e riusciamo pure a ricostruire da varie fonti un'iscrizione latina conservata da una lapide esterna. Non ve la leggo, non è essenziale. Comunque, in questa iscrizione si immagini che la chiesa parli in prima persona e proclami. L'abbate Ferdinand Bartolomeo Gazzo di Napoli mi fece piamente riparare nel 1490 durante il regno di re Ferdinando d'Aragona. Questo stava scritto fuori dalla chiesa. Dunque, i Folengo videro questa chiesa qualche decennio dopo i lavori di ristrutturazione voluti da questo abbate Gazzo. Lavori che, giustamente, sono stati messi in relazione con i danni causati dal catastrofico terremoto del dicembre 1456. a cui poterono forse aggiungersi altri danni dovuti a sismi successivi. E questa cosa dei terremoti dovremmo sempre tenerla presente quando parliamo di edifici, di case che sono scomparse nella nostra terra. E allora torniamo all'epistola di Giambattista. Leggendola per intero, in realtà si capisce che lo sfacelo del monastero di Crapulla in realtà è una metafora. Ed è una metafora del più grave sfacelo che minaccia la cristianità sotto i colpi terribili inferti dall'eresia. Lui soffre per gli eretici, per gli infedeli che attentano alla vita della Chiesa. E non aveva affatto torto Giambattista, tutto sommato, nel piangere per le terribili tempeste che la Chiesa affrontava in quel periodo. Proprio mentre egli si guadagnava il ritorno fra i Benedettini con un rigido eremitaggio, l'abate commendatario di quel monastero un tempo splendido, cioè, lo conosciamo, no? Da feltro, ecco, tale Tommaso da feltro, amministrava con disinvoltura i notevoli introidi di cui Crapulla ancora godeva. Perché il monastero era distrutto, la Chiesa era semiabbandonata. Però, diciamo, l'ente Benedettino, l'ente San Pietro, aveva dei possedimenti infiniti, fra cui quello di Pico, di cui ricevamo poco fa, oppure a Sant'Agata, ci arriveremo. Ecco qui. Si conserva ancora, e si conserva proprio a Vico e Coenze, in località a Vigliano, un epigrafe che riguarda questo da feltro, e perché lì c'era, come vi dicevo, una grancia con una cappella che era possedimento dell'abbazia di San Pietro. Infatti, ancora oggi, il nome popolare di quella zona è Crapulla. Si chiama Crapulla perché era una dipendenza della Crapulla di Vera, quella sul male, diciamo. In sintesi, cosa dice questa epigrafe? Dice che l'abbate Thomas Feltrius di Napoli, ecco, fece restaurare e costruire qualche cosa, non precisa cosa, per sé e per i suoi. A me dà l'idea di un sepolcro, non lo so. E che il lavoro fu ultimato nell'aprile del 1531. Quindi siamo proprio nel periodo di Foligno. Questi dati si integrano con quello che ci dice Riccardo Filangieri. Verso il 1530, questo da feltro era abate commendatario, cioè gli era stata affidata l'amministrazione, ma lui non era un religioso vero, non era interessato veramente a motivi religiosi. e questo da feltro morì quarantenne e fu sepolto nella stessa chiesa di San Pietro. Mi pare strano, forse fu sepolto a Vico, e quella era la sua epigrafe per la sua tomba, diciamo così. Però, prima di morire, rinunziò l'abbatia, cioè rinunciò alla commenda, e per chi rinunciò? Per i poverelli del... No, per suo nipote, che si chiamava Pier Jacopo da feltro. Il Papa Paolo III benedisse la cosa. Però successe che Pier Jacopo da feltro si ammogliò e quindi non... Eppure lui rinunciò a questa commenda. E allora un altro Papa, Giulio III, affidò la commenda a Giulio da feltro, che era il fratello di Pier Jacopo, e cioè era un altro nipote di Thomas. Se la facevano in famiglia, insomma. Non aveva molta importanza chi fosse davvero il vero commendatario. Di questo buon abbate Tommaso rimane anche una lettera che scrisse al fondatore della compagnia di Gesù. Scrisse... Vabbè, era normale. Ignazio di Loyola. Abbiamo una data, una lettera del settembre 1552, in cui da feltro ricorda a Ignazio di aver donato ai Gesù i 150 scudi e chiede una lettera di riscontro. Si aveva la ricevuta. Poi, anche a nome del nipote Giulio, che in quel momento era il titolare della commenda, propone un accordo. In base a questo accordo, la bazia di Crabulla sarebbe stata destinata per servizio del collegio gesuitico di Napoli. cioè lui voleva, diciamo così, affittare la bazia ai Gesuiti di Napoli. Però, in cambio, i Gesuiti avrebbero donato una cifra consistente a Giulio, il nipote, sua vita durante, per tutta la vita, sopra gli frutti di detta bazia. Cioè, si commerciava allegramente di questi beni. È un personaggio potente, disinvolto, questo Tommaso da Feltro. La cosa bella è questa. Se morì a 40 anni, come scrive Filangiri, poiché ancora viveva nel 52, quando scrive Ignazio di Loyola, aveva circa 20 anni, quando nel 31 era a base di Crabulla e fece apporre l'epigrafe ad Avigliano, quindi era giovanissimo. E soprattutto, non cesso mai di godere in qualche modo dei cospicui introiti della bazia e di gestirli disinvoltamente, anche a nome dei nipoti, in pratica. Ma, in realtà, anche il nipote che disubentrò, questo Giulio, non era di pasta diversa. Di lui sappiamo qualche cosina. Di lui si lamenta l'Arcivescovo di Sorrento Donzelli, questa notizia forse la devo a Maria Grazia Spagna, l'Arcivescovo di Sorrento Donzelli nel 1580 descrive lo stato di abbandono in cui versava la grancia di San Giacomo a Sant'Agata. Ecco, la grancia di San Giacomo a Sant'Agata, cheppure apparteneva alla bazia di Crabulla e le penose difficoltà dei carmelitani in cui era affidata l'abate, scrive l'Arcivescovo Donzelli, si presentava solo per riscuotere le somme che gli erano devute, disinteressandosi di salvare dall'abbandono la bazia di Crabulla e la grancia di San Giacomo. Questo è di interessante. Poi c'è anche una, poi la smetto con questa cosa familiare, Giulio da Feltro ebbe delle gravi liti con un chierico spagnolo, da voi va a essere un altro avventuriero questo qua, che si chiamava Fabrizio della Penna. Fabrizio della Penna lo fece arrestare con accuse pesantissime fatte per venire alla Santa Sede e infine nell'86 lo sostituì, voleva il suo posto, quindi lo sostituì come abate commentatario di Crabulla. Ora, come poteva sopravvivere questo povero monastero, questa chiesa affidata a cotali personaggi? Ecco, in ogni caso è stridente il confronto tra questi prelati secolari, questi feudatari in pratica che grazie all'istituto sciagurato della Commenda si arricchivano a spese dei cenobbi dei monasteri e stride la differenza rispetto ai nostri benedettini mantovani che erano venuti a espiare chissà quali dispute teologiche chissà quali atteggiamenti irrispettosi magari i folenguici credevano invece questi si arricchivano e soprattutto Giambattista era angosciato dalla crisi morale della chiesa dal dilagare dell'eresia luterana dalle minacce musulmane l'abbiamo compreso la fine dell'antico insediamento benedettino di Crapulla era in ogni modo segnata dopo la rovina del monastero seguì anche quella lenta ma inarrestabile della chiesa vi faccio vedere alcune slide che illustrano questo triste processo ecco questo che vedete è un disegno di Teodoro Ducle c'è scritto su le rovine di Crapulla si trova al museo Correale di Sorrento è stato recuperato e pubblicato dal nostro amico Mario Russo sempre un'occasione buona per ricordarlo è stato pubblicato in un bel volume di qualche anno fa purtroppo è molto molto rovinato molto sciupato però insomma in questo disegno datato 1860 ancora si riconoscono delle mura delle arcate c'era ancora una significativa memoria della della chiesa chissà se era la chiesa sì forse era la chiesa il monastero già era andato via da un pezzo e naturalmente poi questi gli arrivi della chiesa furono venduti spostati questo per esempio è il fronte battesimale dell'ambazia di Crapulla che ora si trova nella chiesa di Sant'Agata dico bene? dico bene io non lo sapevo ma mi aiutano in queste ricerche e ci sarà sicuramente qualche altra cosa che è andato a finire in altre chiese della zona o chissà che fine ha fatto questa invece è la situazione attuale questa è la la solita capellina l'abbiamo capito no? la capellina edificata nel 49 ancora ci sono delle colonnine delle colonne spezzate ancora si riconosce si rintraccia qualcosa del passato di questo luogo ed è la situazione di oggi diciamo così però a questo punto passiamo anche al tredicesimo nano tredicesimo dei pomigliones quelli di dialoghi di Giambattista perché è specificamente dedicato al nostro territorio cioè in particolare ai nomi dell'eremo di Crapolla che è della città di massa cioè l'etimologia perché da dove viene il nome Crapolla da dove viene il nome Massa e chi sono i protagonisti di questo dialogo sono Giambattista Forello lui stesso che l'autore stesso che però si chiama con un nome fittizio lui si chiama Crisogono vabbè ma è lui insomma e poi c'è un dotto Massese un vecchio signore Massese il nome pure sarà fittizio sicuramente si chiama Lisandro quindi parlano Crisogono e Lisandro la prosa la prosa di Giambattista avete capito è molto molto seriosa molto impegnata è tutta infiorata da citazioni di autori classici autori cristiani e poi ci sono continui accenni a personaggi illustri dell'epoca cioè c'è il generale Alarsson cioè si parla di Papa Clemente VII dell'imperatore Carlo V i quali sono impegnati nella lotta contro gli infedeli sono i suoi eroi insomma il tono come vi dicevo è molto impegnato Folengo si rivolge a questo povero Lisandro che è una specie di vittima insomma con un tono da un piglio da maestro diciamo così tanto per cominciare lo rimprovera perché questo Lisandro quando parla dice ogni tanto dice per Ercole per Polluce che sono delle esclamazioni tipiche del latino come noi diciamo per Bacco questo qua diceva per Ercole per Polluce e il buon il buon Gio Battista lo riprende seriamente ma come ti permetti un buon cristiano non deve neanche nominare queste divinità pagane ora Lisandro che è molto tranquillo e molto rispettoso e paziente accetta il rimprovero però dice vabbè accettiamo tutto perché vuole chiedere al frate al Benedettino una sua opinione sul significato dei toponimi massa e crapolla nel latino di folengo non è crapolla è caprulla perché è latino perché vuole chiedere questo parere proprio proprio a Gian Battista perché è un esperto insomma perché in questa materia difficile diciamo quella dell'etimologia il Benedettino è un'autorità perché ha stampato ha stampato un'interpretazione di alcuni toponimi abruzzesi era stato anche in Abruzzo e non avendo di meglio da fare aveva aveva ragionato su alcuni nomi di luoghi e Lisandro dice di aver letto gli dice di aver letto questo scritto di Gian Battista in una taberna libraria di Roma che non è non è che si beveva la taberna libraria era una stamperia una stamperia che fungeva anche da locale per la vendita dei libri e inevitabilmente vi si riunivano anche persone interessate alla lettura e ai libri quindi Lisandro ha viaggiato insomma è stato a Roma ha letto questo buscoletto diciamo e adesso che ha il Benedettino a disposizione ne approfitta e gli chiede dice ma allora che significa Crapulla che significa Massa no? Gian Battista non si fa pregare in realtà non voleva altro e allora comincia a discettare che significa Caprulla il toponimo Caprulla secondo Gian Battista va collegato con il vocabolo Caprona Caprona in latino che significa chioma che scende dal capo perché perché questo questo termine sarebbe nato dalla somiglianza di una rupe di Crapulla vi ricordate le foto che vi ho fatto a vedere all'inizio la somiglianza di una rupe di Crapulla coperta dalla vegetazione con la fronte di un volto umano da cui su cui pende una folta capigliatura allora questa è la fronte che è il costumo di capigliatura e non posso farlo immaginate che io abbia i capelli che mi arrivano fin su gli occhi allora questa sarebbe la chioma che scende sulla fronte allora questa vegetazione che scende sulla costone caprulla è così assurdo che è pure simpatico allora dice il Benedettino mi leggo mi leggo proprio le sue parole alza un attimo gli occhi stanno giù anche da voi fino all'estrema cima del monte e guarda attentamente se si può immaginare qualche altra cosa che sia più somigliante osserva come quell'erto costone che sporge sulla vetta palesi agguisa da un volto umano una specie di fronte ecco quella è la fronte di un viso da quel costone fino al recinto delle case che stanno giù su un pendio più dolce si spandono come sulla fronte di un uomo formando una bellissima comigliatura prima gli olivi poi un mirteto che cresce intrecciato a svariati arbusti fantasia una gran bella fantasia innegabilmente il vocabolo latino caprone esiste esiste no in carità significa proprio questo significa chiome che cadono sulla fronte però è un vocabolo rarissimo un vocabolo che non usa quasi nessuno è troppo raro troppo ricercato per spiegare il nome di un nome popolarissimo di una località come Caprulla però Giambattista è onesto diciamo dopo la sua opinione espone anche l'opinione del fratello con cui aveva una continua interlocuzione si vede dice io la penso così però mio fratello Teofilo ha una sua idea diversa che è molto interessante perché lui ritiene che il nome Caprulla nasca da Capri nasca da Capri la vicina isola che fu rifugio di Tiberio Capri per cui era famosa quasi che questa isoletta che tu vedi è Isca questa isoletta che tu vedi distante dalla costa appena uno stadio che sono circa 200 metri si possa chiamare Capreola è che da essa abbia preso nome il monte insomma è un poco contorta la cosa ma in sintesi Capri avrebbe dato il nome di Capreola cioè Capretta all'isolotto di Isca odierno isolotto di Isca l'isolotto a sua volta avrebbe dato nome all'insenatura di Capolla che sta proprio lì vicino pure questo è assurdo però è molto più vicino alla realtà ma questa è una cosa divertentissima che mi piace ogni volta raccontare perché alle ipotesi di Foligno la prima strappalata la seconda molto interessante col tempo se ne sono aggiunte altre ipotesi per esempio per esempio una insigne grecista napoletana questo insegnò l'Ateneo napoletano si chiamava Onofio Gargiulli spiegò il nome Acrapulla lui ci mette una A intensiva davanti Acrapulla pure lui non teneva niente da fare quindi spiegava i toponimi allora Acrapulla lui le spiegava con le parole greche Acra Apollonos Acra Apollonos sarebbe la rocca di Apollo questo è peggio di quella di Giambattese è peggio questo ha fatto dei guai colossali perché poi qualcuno ci crede ancora Acra hai detto ma neanche in futuro io ho sentito siamo sempre di serissimi ricercatori studiosi anche insigni che stanno cercando il tempo di Apollo c'è un grapulla e perché perché lo cercano è perché grapulla significa quello ci deve stare il tempo casapulla che è casa di Apollo è libero o funziona qua su casa si può anche discutere non so qui non funziona nessuno no per carità potranno cercare il tempo di Apollo per decenni speriamo che non lo troveranno mai va bene non è finito qui un altro accademico napoletano che si chiamava Bernardo Quaranta sostiene che grapulla deriva da una radice tirrenica cioè etrusca e quindi grapulla vorrebbe dire roccioso pietruso poi arriva Norman Douglas e non non gli saremo mai troppo grati perfetto conoscitore della terra delle sirene uno che da giovane si era formato nei più rigorosi studi classici se di ovule e allora si divertiva da morire e giudicava l'etimologia del gargiulli cioè quella di Acra Apollos giudicava questa etimologia un'etimologia da Cicerone cioè da da guide di quattro so secondo Douglas invece l'origine della parola è identica a quella di Capri anche se che cosa significhi Capri non è sicuro non è chiaro dice Douglas non è una parola greca non è fenicia e in tutta Italia ci sono luoghi con nomi simili nel raggio di poche miglia qui intorno c'è almeno una mezza dozzina di Capri e di Caprile ora quando Norman Douglas dice cosa significa Capri non è chiaro secondo me è ironico perché lui faceva queste cose terribili lo sapeva benissimo Capri le Capri comunque a distanza di quattro secoli l'idea di Douglas è molto vicina vedete a quella di Teofilo Forendus e oggi in ogni caso la teoria più accreditata sul toponimo Capri è quella di Domenico Silvestri studioso in signa e fa riferimento alle Capre le quali in antico dovevano essere la connotazione più forte dell'isola e si tratta di una connotazione che troviamo dovunque sulle coste italiane e non solo italiane allora si pensi a te insole di Capri Capraia Giglio attenzione poi spiego l'arcipelago delle Egadi l'isola greca di Egina ma si potrebbe continuare ancora a lungo tutti questi nomi con varie modalità risalgono o al greco Aix che è la Capra Aix quindi Egina Egadi oppure risalgono al latino Capra quindi niente di strano che anche la nostra Crapulla abbia preso tale nome per la presenza delle Capre in questo caso Caprette Caprette selvatiche se dal latino Capra con un normale scambio di consonanti nei dialetti medionari abbiamo Capra Crapra e allora dai diminutivi latini Capella Capreola sicuramente possiamo avere Crapulla è troppo facile è troppo terra terra quindi questi grandi intellettuali non potevano accettarli ho quasi finito un attimo solo di pazienza parliamo solo di Massa perché finito il discorso su Crapulla Giambattista passa a rimproverare i massesi questo era uno che rimproverava continuamente vediamola pure questa è Massa Loprense nel Cinquecento dice che i massesi ignorano il nome della loro città come si fa quindi dopo qualche fiorita ironia il frate però elogia con parole sincere la città di Massa questo è interessante elogia la città di Massa la quale anche se è priva di mura non è seconda a Napoli stessa per l'intelligenza e non è stata i suoi abitanti è un bel elogio questi ultimi sono anche robusti e coraggiosi navigatori impavidi nel combattere per terra e per mare a buon diritto perciò chi chiamò Massa la città usò una parola del colgare italiano adesso c'è la sua ipotesi no? perché si chiama Massa? perché è un gioco questa città è un gioco è un grave peso che rappresenta la città di Massa per i suoi nemici è una comunità che è un peso per i nemici della cristianità i nemici della loro terra eccetera Massa dunque significa grave gioco che incombe sui barbari ostili lo dice lui vabbè avete capito com'è il suo modo di ragionare non infiediamo un po' di tanto ha una bella immaginazione anche probabilmente anche in questo caso sbaglia probabilmente Massa deriva dal termine latino Massa esiste Massa poi nell'alto medioevo anche nella forma Massa il quale termine indicava un vastissimo fondo o territorio adibito a cultura questo è tutto come ci sono tante altre Massa per l'Italia e vabbè le parole successive di Gian Battista riservano infine un altro risvolto moralistico i Massesi che lui deve fare il maestro deve bacchettare i Massesi un tempo erano un grave gioco per i nemici ora però sono diventati un grave gioco per se stessi perché sono sommersi da crediti da riscuotere prestiti a usura ipoteche altre cose del genere non hanno più limite nessuno nella ricerca del guadagno e devo dire che queste parole scuotono un po' con l'amor proprio di Sandro risandro accetta diciamo accetta questa critica dice è vero siamo un poco così però edugatamente questa volta replica e replica dicendo che se in realtà sono tanti gli introiti dei Massesi dice non è detto che siamo nati per rimpinguare il pubblico erario con le tasse esalbitanti che siamo costretti a pagare si lamenta delle tasse e dice mica siamo dei polli da spennare insomma qui si può scorgere una conferma della grande abilità dei Massesi nelle attività finanziarie che io non conoscevo quando tanti anni fa per la prima volta ho messo il testo di Gian Battista Forino poi però l'ho conosciuto sempre leggendo un saggio di Maria Grazia Spano sulla nascita e il successo di molti banchi mercantili e monti di pietà a Napoli create da Massesi erano molto in gamba e questo saggio per chi fosse interessato si trova nel volume Sorrendo e Massalubrense del Cinquecento che il centro Capasso ha stampato l'anno scorso 2021 pare inoltre di poter affermare che quando vivissero il Folendo cioè nei primi anni del Cinquecento i Massesi vivevano un periodo di relativo benessere inoltre le tasse erano sfissianti allora come oggi pare che non sia molto cambiato con tutte le lamentele conseguenti a questo punto il tredicesimo nano si conclude e in sintesi possiamo delineare forse l'idea che questo padano è un padano il nostro Giambattista si fece di Massa e dei suoi abitanti come la pensava insomma sulla decadenza del monastero di Crapulla come abbiamo visto si limita a un'amara presa d'atto lui non può non notare come è ridotto male questo monastero però non muove critiche a nessuno tanto meno agli abbati commentatari e questo non ci meraviglia perché Giambattista faceva penitenza per rientrare nell'ordine se si fosse messo a scrivere cose compromettenti non l'avrebbero fatto rientrare possiamo però immaginare quale fosse il suo parere di serio moralista perché altrove lui muove dure critiche alla corruzione del clero che ormai è lontano dal modello della chiesa primitiva del massesi poi ammira le grandi doti di navigatori di combattenti specie contro i barbari infedeli i massesi si segnalarono in alcune battaglie navali importanti e apprezza pure con qualche rilievo critico per l'eccessiva sete di guadagno l'abilità dei commerci e negli affari stranamente però il Benedettino non menziona le attività agricole gli allevamenti di animali che davano da vivere alla maggior parte della popolazione in questo ci appare diverso da suo fratello Teofilo vedete Teofilo è più vicino al mondo contadino insomma e poi Teofilo dalla scoperta esilarante e amara del mondo contadino aveva tratto lo spunto centrale del suo capolavoro che come vi ricordate è il Baltus forse lo sguardo di Gian Battista che era pur sempre lo sguardo di un antico aristocratico aristocratico modesto provinciale decaduto ma sempre aristocratico e poi era lo sguardo di un grande intellettuale dicevo questo sguardo non era avvezzo a posarsi sugli umili lavoratori dei campi troppo intento a scrutare le mosse i conflitti dei protagonisti della politica internazionale cioè il Papa gli eretici gli imperatori i francesi le potenze musulmane il lavoro agricolo che poi lui stesso praticava nell'eremo di Crapolla e anche altrove poteva essere una forma di preghiera lo prescriveva la regola benedettina no ora et labora poteva essere una forma di espiazione ma non suscitava il suo interesse grazie a voi invece per aver ascoltato con interesse questa relazione grazie se ci sono domande grazie a voi 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 grazie a voi